Cortina D'Ampezzo, 5 torri con Amedeo Reale, presidente dell'Uciclub 18 Cortina. Tra le varie attività dell'Uciclub viva la compagine master, cosa ci racconti del pianeta master del 18? Beh, insomma ormai siamo 10 anni che abbiamo lanciato questo progetto master e cresciamo anno dopo anno, anno dopo anno atleti dal territorio si uniscono al nostro gruppo, quest'anno l'evento clou sarà la tappa del Coppa del Mondo Master, FIS Master Cup, 14, 15 e 16 febbraio, come al solito sarà un grande successo di pubblico perché ne arrivano da mediamente tra 11 e 15 paesi in tutto il mondo e 380 concorrenti al giorno, insomma un bel cinema. E l'anno prossimo? L'anno prossimo dopo i mondiali FIS avremo i mondiali master organizzati dallo Ciclub 18 una settimana dopo probabilmente sullo stesso palcoscenico del mondiale vero e proprio quindi sarà anche lì gare di altissimo livello, preparazione piste eccezionale e speriamo anche un successo di pubblico.